Ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Scusate il mio vestito un po' stravagante ma ero a un matrimonio quindi mi son vestito un po' bene. A parte gli scherzi ragazzi, son vestito così perchè sto provando il costume per il GioComics. Ah, e mi son dimenticato di dirlo, ho scelto di fare la intro con Kratos perchè lui è il fantasma di Sparta, quindi fantasma Halloween. E' un evento che ci sarà a Cagliari il 24 e il 25 novembre ed essendo un cosplayer naturalmente non posso mancare. Quindi se anche voi sarete al GioComics e vedete un piccolo tappo bianco con delle strisce rosse, quello sarò io. Perchè sono alto così, sono più basso di me, incredibile. Sono il primo essere umano a essere più basso di se stesso. Comunque a parte gli scherzi, benvenuti sullo speciale di Halloween. Qui in questo video, come avrete letto anche dal titolo, faremo una top di curiosità di Carnage, il simbionte più pazzo e psicopatico della casa dell'idea. Per questo speciale ho voluto scegliere proprio Carnage perchè secondo me un serial killer psicopatico e alieno è la scelta migliore. Per uno speciale proprio di Halloween. Comunque, dopo questa intro super strana e super particolare, possiamo iniziare il video su Carnage. Buona visione ragazzi. Carnage, il cui vero nome è Kletus Casadei, o Chiesadei, non lo so come si pronuncia. E' il primo simbionte ad apparire dopo Venom. Infatti lui è il primo della progenie di Venom stesso. Kletus, come lo si può subito immaginare, ha avuto un'infanzia difficilissima. Infatti è cresciuto tra violenza e percosse. Questo lo porta a commettere il suo primo omicidio e la sua prima vittima è stata proprio sua nonna. Kletus, dopo il suo primo omicidio e l'arresto del padre per l'omicidio della madre, finirà in un orfanotrofio, dove passerà tutta la sua infanzia e adolescenza. E dopo essere uscito dall'orfanotrofio, prenderà la strada del delinquente, finendo persino in carcere. Però, come vi ho già detto, Carnage è il primo figlio di Venom. Però, come è successo? Eddie Brock e Kletus non hanno nessuna parentela. Allora, cosa è successo? Kletus, finito in carcere, finirà nella stessa cella di Eddie Brock. E due iniziarono a parlare, a dialogare e a storare una sorta di rapporto. Però questo rapporto è un po' diverso, è un po' particolare. Infatti, a lunga andare, Kletus proverà sempre più odio per Eddie Brock, tentando persino di ucciderlo. Però non ci riuscirà, grazie al simbionte tornato da Eddie. Infatti, al periodo, Eddie Brock e il simbionte di Venom erano separati. Il simbionte, unitosi nuovamente con Eddie, fuggirà dal carcere. Però fuggirà lasciandosi qualcosa alle sue spalle. Questo qualcosa è una sorta di frammento o di seme del simbionte stesso. Questo frammento si unirà con Kletus, formando e creando uno dei nemici più temibili dell'uomo ragno, ma anche di Venom stesso. Questo nemico è Carnage. Carnage si rivelerà subito un simbionte superiore. Infatti ha una forza e una potenza nettamente superiore a Venom. Infatti, per sconfiggerlo, Venom e Spider-Man si sono dovuti alleare più volte. Carnage, come il suo padre Venom, ha girato svariati corti. Ma i più celebri sono Silver Surfer, da cui nascerà Carnage Cosmico. Il clone di Peter Parker, Ben Raleigh, da cui nascerà Spider-Carnage. E ultimamente si è impossessato di Norman Osborn, da cui nascerà Red Goblin. Di cui ve ne parlerò a fine video. Perché le curiosità che vi dirò su di lui, diciamo che... Anzi, non è che diciamo. Sono spoiler. Kletus, anche se è un serial killer, è posseduto da un simbionte psicopatico alieno, ha un cuore. Infatti inizierà una relazione con la mutante Shriek, che conoscerà durante una delle sue tantissime evasioni. Questa relazione è un po' strana. Strana tal punto che i due adotteranno anche Dopel Gunner. Per chi non lo sa, Dopel Gunner, spero che si pronunci così, è una sorta di Spider-Man che sembra posseduto dal demonio. Letteralmente. Letteralmente. Comunque, come vi ho già detto, Carnage si è girato svariati corpi. E durante una delle loro separazioni, Kletus finirà in carcere. Però da questo carcere verrà salvato da Electro. E per poco ci riuscì, se non fosse stato per Sentry. Infatti, Kletus, insieme di nuovo a Carnage, si ritroverà proprio Sentry davanti. E i due iniziarono una lotta. Secondo voi, contro Sentry, com'è finita? Esattamente. Dopo pochi secondi, Carnage si ritroverà nello spazio, spezzato in due, a mani nude da Sentry. Però Carnage non morilli. Ma dopo svariati anni, Carnage ritornerà. E si impossesserà di Capitan America, Wolverine, Occhio di Falco e la Cosa. E se non fosse stato per Scorn, Spider-Man e l'agente Venom, sarebbe successo come in Spider-Man e Regno delle Ombre. Però invece di Venom, ci sarebbe stato Carnage. Infatti, si sarebbe impossessato di tutta l'umanità. Creando un mondo carneizzato. Non so neanche se esiste questa parola, però carneizzato. Kletus, comunque, nel suo curriculum personale, ha migliaia di vittime. Ma durante la serie Minimum Carnage, Kletus verrà lobotomizzato dal Ragno Rosso. Per non fargli uccidere più nessuno. Però grazie al simbionte, Kletus guarirà da questa lobotomia. Quindi immaginate il fattore rigenerante che hanno questi simbionti. I creatori che hanno ideato Kletus e Carnage si sono ispirati al Joker. Infatti hanno voluto creare un serial killer pazzo e crudele, che prova gusto a uccidere le persone. Come vi ho già detto nel video dell'antivenom, ogni simbionte si genera da, da virgolette, una parte del corpo. Infatti l'antivenom si è generato grazie ai globuli bianchi di Eddie Brock. Invece Carnage si genera dai globuli rossi. Infatti questo gli dà quel suo colore rosso sangue. Carnage, come il padre Venom, avrà un figlio. E questo figlio è Toxin. Toxin, come il padre con il nonno, sarà nettamente superiore di forza. Toxin è molto più forte e potente del padre. Come lo stesso il padre era molto più forte di suo padre. Quindi ogni volta che un simbionte si riproduce, farà nascere un simbionte ancora più forte. Però a differenza del padre del nonno, Toxin sarà buono. Perché si unirà con un poliziotto di nome Patrick Mulligan. Come ormai abbiamo capito, nell'universo Ultimate le storie vengono completamente cambiate. Infatti qui Carnage, come Venom, verrà creato dall'uomo. Più precisamente verrà creato da Kurt Connors. Per chi non lo conosce, è Lizard quando non è trasformato. Kurt creerà il simbionte di Carnage col DNA di Peter Parker, col suo DNA e con dei frammenti del costume di Venom. Ma sotto il simbionte non ci sarà Kretus, ma ci sarà un clone di Gwen Stacy. Che però verrà salvata da Venom quando lui stesso assorbirà il simbionte di Carnage. Diventando un essere perfetto. Sapete la storia di Cell che assorbe C-17, C-18 e diventa... Ecco, anche Venom ha fatto così nell'universo Ultimate. Brava Marvel, non copi mai eh. Invece nel videogames Ultimate Spider-Man troviamo una storia simile ma con un altro soggetto. Infatti al posto di Gwen Stacy ci sarà Peter Parker. Nella serie animata Spider-Man Unlimited del 1999, Carnage si alleherà con Venom per creare una razza di simbionti superiore nel futuro. Una serie sinceramente che vi consiglio, una serie con cui io ci sono veramente cresciuto. Veramente, letteralmente cresciuto. Io nel 99 avevo 7 anni, quindi io sono cresciuto con questa serie di TV. È bellissima. Guardatela. Come vi ho detto all'inizio video, Carnage si è unito anche a Norman Osborn. Facendolo diventare ancora più pazzo e creando un altro dei nemici più pazzi e crudeli per Spider-Man. Questo nemico è Red Goblin. La vera identità di Red Goblin inizialmente fu un vero e proprio segreto. Infatti nessuno, o comunque non si sapeva chi poteva essere. E molti dei nerd, pazzi, psicopatici come me, hanno iniziato a fare grandissimi viaggi mentali per scoprire o comunque capire chi fosse questo personaggio. E grazie anche a qualche spoiler fasullo, detti proprio dagli scrittori e dagli ideatori di questo personaggio, si pensava che c'entrasse Mephisto con la creazione di questo mostro. Naturalmente non era così. Ragazzi, nelle prossime curiosità dovete stare attenti perché sono spoiler. Comunque vi racconto un pochino quello che è successo nei fumetti che stanno uscendo in questo periodo. Quindi se non volete rofinarvi la sorpresa di leggere cosa è successo, vi consiglio di andare avanti. Red Goblin come l'anti-venom è un simbionte 2.0. Perché vi dico questo? Perché entrambi non hanno più il tallone d'Achille che hanno i simbionti, che sarebbe la debolezza per le alte temperature e per i colpi sonici ad alta frequenza. Infatti i due non hanno più di questi problemi. Sicuramente per una questione di evoluzione, non si sa bene perché. Infatti per chi non lo sa, i simbionti si evolvono. E questo lo possiamo vedere anche nel simbionte del 2099, del Venom del 2099, dove quel Venom si è addirittura evoluto diventando tossico, velenoso e molto ma molto più forte. Però questa è un'altra storia. Nella storia del Goblin Rosso ci sono svariati colpi di scena, come ad esempio la morte dell'anti-venom e la creazione di un mini-goblin. Sapete il mini-me? Una specie. Infatti questo mini-goblin o goblin bambino, complimenti Marvel per la fantasia dei nomi, troviamo il piccolo Normie Osborne, che sarebbe il nipotino di Norman Osborne, il figlio di Harry Osborne. Tutti Osborne. Quindi, come sempre, la mela non cade lontano dall'albero. E soprattutto la mela della Marvel. Perché naturalmente, se il nonno è diventato... è stronzo, anche il nipote del nipote del cugino del fratello del cane del nipote, è stronzo anche lui. Sempre così. Comunque qui arriviamo allo spoiler finale. Io ti ho avvisato, eh. Ti ho avvisato. La fine del goblin rosso è molto ma molto complessa. Per un semplice motivo. Essendo un nemico, normalmente viene sconfitto. Però stranamente questo goblin non viene sconfitto dagli eroi del momento, come Spider-Man, l'anti-venom, la gente... Nessuno. Non viene sconfitto da loro. Ma viene sconfitto proprio da Norman Osborne stesso. Mi spiego meglio. Norman Osborne sappiamo tutti che è un megalomane, che ha manie di protagonismo. Lui deve essere sempre al centro dell'attenzione e deve fare sempre tutto lui. Il tipico cagacazzo. E per questo suo difetto caratteriale, Norman non vuole condividere la vittoria con nessuno. E nemmeno col simbionte. Infatti se lo strapperà a mani nude proprio dal suo corpo. E infine uccidendolo con una delle bombe zucca. Questo porterà al goblin a tornare il classico goblin che tutti noi conosciamo. Quindi per Spider-Man è stata una scemenza sconfiggerlo. E in più il caro Norman Osborne per poco veniva ucciso da un proiettile sparato dalla pistola di J. Jonah Jameson. Che stanco di vederlo lì lo sparerà. E per poco ci riuscì. Se non fosse stato per Spider-Man che si mise in mezzo tra J. e Norman Osborne. E Norman rimarrà lì seduto a contemplare la sua pazzia. Ragazzi, detto ciò il video si conclude qui. Spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto vi chiedo di lasciare un bel like, condividere, ma soprattutto dimmi qui sotto cosa ne pensate. E se ho sbagliato qualche curiosità, come sempre potete scrivermelo qui sotto nei commenti. Ricordate che come sempre qui sotto in descrizione troverete le mie pagine social e anche dei canali che vi consiglio. Se vi va, fateci un salto. E in più, anche nello scorso video, mi sono dimenticato di mettere la lista dei miei bellissimi videogiochi della Marvel. Per questo perché faccio le cose di fretta. Faccio la descrizione in fretta e mi dimentico di scrivere. Perché faccio copia e incolla con l'altra. Cambio due cose, però mi di me. Mi di scusatemi. Scusatemi. Qui la metto. La metto. Giuro che la metto. Comunque, a parte gli scherzi, grazie ancora per la visione. Noi ci vediamo qui, sempre su questo canale fatto di cose. Grazie per la visione. Ciao ragazzi. Alla prossima. Cosa, cose.